Montagna terramana, martoriata nello spirito e nell'economia, ma il commercio e l'artigianato devono ripartire. Servono soluzioni ma anche idee. Se ne parlerà a Montorio mercoledì prossimo a partire dalle 19 in un convegno organizzato dai commercianti montoriesi. Abbiamo organizzato questo convegno promosso principalmente dal presidente dell'associazione commercianti AMI di Montorio, l'amico Maurizio De Angelis, cercando di coinvolgere tutte quelle che sono le forze che possono dare il proprio contributo. Cominciare chiaramente dal presidente della Camera di Commercio, dal presidente della Consorform, dal Confcommercio, quindi avremo con noi anche l'assessore, Lolli che ha la delega dell'età di vendita produttiva, ma principalmente gli attori più importanti, quelli che sono i commercianti, gli artigiani della vallata, del Vomano, in su, verso la montagna, che hanno subito gravissimi danni. È una prima di tante iniziative che vorremmo fare anche nella nostra città di Teramo, perché credo che solo così, dando una mano, stando vicino a quelle che sono le attività produttive, che in questo momento stanno subendo i danni più grossi, insieme anche al turismo ovviamente. Al vicepresidente Lolli che cosa chiederete? Beh, chiederemo innanzitutto di starci vicino, di investire sul territorio Teramano, perché a mio avviso il territorio Teramano, la montagna Teramano, è quella che ha subito forse di più, nonostante la tragedia di Ricopiano, sulla quale ovviamente siamo tutti profondamente colpiti e feriti, le nostre attività sono ferme e io sono convinto che qualche risposta importante vedrà fuori. Grazie.